Il condodino getta il seme nel terreno, poi neanche sa che cosa accade tra notte e giorno, ma quel seme germoglia e cresce. E poi c'è il granellino di senape, che è quasi impalpabile, è il più piccolo dei semi, ma da questo seme viene fuori un grande albero. Sono i due esempi che troviamo nel Vangelo di questa domenica con cui Gesù ci fa gustare il regno di Dio. Un regno che non si può definire, ma che attraverso immagine, attraverso parabole, possiamo cercare di percepire. Gesù annunzia anche che con la sua venuta il regno di Dio è qui, è presente, è in mezzo a noi e chiama alla conversione, cioè a orientare la nostra vita, a fare in modo che la sua parola e la sua stessa vita siano criterio per le nostre scelte. Ecco, io mi trovo in un luogo che permette di gustare la bellezza della natura. C'è un silenzio in cui è facile ascoltare la voce della natura e anche contemplare il seme che germoglia e che cresce. Ma è anche importante e fondamentale poter gustare la logica del seme applicandola alla storia dell'umanità. Sono accanto all'abbazia di San Felice, il giorno dell'Umbria. Qui, il 15 agosto 1815, è iniziata l'avventura nello spirito dei missionari del preziosissimo sangue. Un piccolo seme, è proprio il caso di dirlo, ma che da oltre due secoti, attraverso il dono della vita di tanti uomini che dicono sia Dio, uomini capitanati da San Gaspar e del Bufalo, offre l'annunzio del Vangelo. Perché si diffondano la fede, la riconciliazione, la pace. Perché si guardi con speranza al presente e al futuro. Perché si viva la carità. Gli eventi che hanno preceduto l'inizio della congregazione sono stati davvero drammatici. L'Europa per decenni è stata in fiamme, conoscendo la nascita e l'ascesa dell'impero napoleonico. Nascita e ascesa a cui ha fatto seguito una repentina caduta. Le macerie, materiali e spirituali, eretità delle guerre, non hanno fatto desistere Gaspar e i suoi dal mettere la propria vita a disposizione della crescita del regno di Dio. A mezz'ora di qui c'è Colle Valenza, oltre un secolo dopo, altra epoca, ma nazifascismo e comunismo che causavano morte e distruzione. Il Signore in che modo estende il suo regno? Getta un altro seme, chiama una donna quasi illetterata ad annunziare il suo amore misericordioso. Madre Speranza, oggi beata, è un seme gettato nei solchi della storia in cui si afferma la potenza di Dio che sconfigge le perverse trame umane. Il versetto che precede il Vangelo di questa domenica ci fa considerare che il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo. Papa Francesco, parlando dei santi della porta accanto, della classe media della santità, ci invita a guardare al bene che tanti accanto a noi nella semplicità del quotidiano seminano, ma anche al bene che ciascuno di noi è chiamato a vivere. Come battezzati, facendo dono della nostra vita, anche noi collaboriamo nel far crescere il regno di Dio. Il seme può persino richiamarci i nostri gesti più piccoli, di cui il Signore si serve. Diceva Madre Teresa di Calcutta che non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Non lasciamoci scoraggiare nel seminare speranza, gioia e pace. Buona domenica a tutti!